Bentornati ragazzi, prima live reaction sul canale della Champions, so, leggete Sharp degli squadri, vinciamo oggi, oggi vinciamo, abbiamo un allenatore di merda ma vinciamo oggi vinciamo eh, oggi vinciamo, vi presento gli ospiti, vieni, saluta, ciao ragazzi, parisi è parista, vieni, abbiamo il gufo milanista, vieni, vieni, dai, fatti vedere, c'è il gufo, c'è il gufo milanista, oh ragazzi, non pigliamo imbarcato, senti, senti che musichina, Decempio, vieni, 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 Decempio, dai, gobi, gobi, dai, super sguota, qui si va, è iniziata, degli scari, squadri, è quadrato se, non lo so, guarda, vai, 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 vai Hai visto però? Siamo partiti in avanti. Quattro minuti c'è solo Vlauvić. Per farti capire, per farti capire. Cosa puoi fare? Ma cosa puoi fare? Per farti capire, per farti capire, per farti capire, per farti capire. Per farti capire, per farti capire, per farti capire. Ah no, non solo tecnica, ma personalità. Ma cosa si è fatto? Si è fatto un cazzo. Cosa fa un cazzo? Ma che buffone è? Ma sembrava cosa, sembrava l'autore. Che buffone è lei ma? Stiamo coi fatti nei video. Chi è Paredes? Paredes. Padrado, arriva Padrado. C'è ancora Danilo, Paredes, non controlla bene. Vai, difesa, difesa. Plaudic, Plaudic, diretti forse fuori giochi. Bravo, rimanata sui proie. Paredes, scatto di Milica, contro Matteo Miletti, fermato da Sergio Ramos. Guarda questi qui, cioè. Come è così? E così si gioca a calcio. Chi deve? Allegri! Oh! Hai visto come si gioca a calcio? Minchiamen! Guarda come si gioca, merda! Merda! Anche la cremonese ti vuoi. Merda! Non sa giù. Non è arrivato. Anche la cremonese, non è arrivato. Non è tornata male. Nooo! È venuto per rovinarci. Questi anni ci ha rovinato. Vorrebbe Milica. C'è nessuno. c'è la tirata centrale il gioco quadrato ma è quella che mi fattano per te qual è quell'altro? Che piedi di merda, chi è? Cosmi? 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 Guarda che la porta è là guarda Milik ragazzi Sì ma ha sbagliato non era niente scatto di attività no 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 ma sto bastardo qua e fa due dopo 22 minuti guarda quando spingo c'è un po' di gol però degli area strani c'è tutto di fine guarda lì quanto cazzo sono veloci Uno, due, tre, tiro. Dov'è fatto? Che è veramente prestissimo. Ma poi questo è spronso, tutti e due gol, così, il primo, capo. Abbiamo sentito una provocata di livello altissimo di qualità. Ma cosa fa anche lui? Niente, oggi stiamo vedendo il calcio contro l'anticalcio. Bravo Allegri, te ne devi andare. E ne devi andare, merda! Che dire, ragazzi? Finita. Abbiamo visto una Juve bassa, passiva, uguale, assimiliana a Lega. Finito il primo tempo. Bravo, merda di acciughina. Bravo, bravo, allenatore di merda. Bravo, bravo, allenatore di merda. Spero che dopo questa ti mandino a fare in culo, che sia che è giusto così. Ci vediamo al secondo tempo. Speriamo di non prendere altri tre. Forza, aiuto. Ragazzi, secondo tempo. Ma quale tre a due? Sì, perché è successo uno. Sì, 5 a zero finisce. Ma gente non guarda più la partita. Ecco il secondo tempo. È iniziato il massacro. È iniziato. Sì, è iniziato il massacro. Ragazzi, tre a due, eh. Pronto alla cross. Sì, 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 sì. MECCAENDI! 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 NO! 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 NO, non fate vestire dai! Cazzo! Che la vinciamo! La sinica alle spalle dei centro campisti. MECCAENDI! Abba bene, al di là del goal con grande intensità. Vai, che ci parei? Dai il quadrano, crossa, crossa! Spider dino! Nooo! 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 Questa è sfida! Dai, coca! Merda, veramente! Nooo! Dai, dai! Altre cross! Tiro! Guarda tu, a me lo scenderemo mai, la sensazione si è brava! Eh, un altro colpo fai! Cioè, dai, no! Ma la devi vincere! E togli il mio bello, Catelli! No, ma sei un coglione! E ne devi andare! Che ne devi andare! E hai rotto il cazzo! Ma che allenatore! Che allenatore di merda! Che allenatore di merda! Che allenatore di merda! Che allenatore di merda! La dobbiamo pareggiare! E va dentro, Locatelli! Vuoi tenere il 2-1, hai capito? Ah, dai, affancio uno! No, questa è la merda, va! No, basta! Locatelli! Ecco le cross! Che arriva Donnarumma! Ha respinto! Su, Danilo Lewis! Altro cross! Profondo per tutti! Dai! Dai, Costic! Costic! Locco! Locatelli! Deviazione ancora Locatelli! Ma che cuore vanno, però! Si vanno gran culo, però, eh! Ancora un grande intervento da parte di Donnarumma su questo pallone di mese! Questa è il culo, però! No, 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 no! Costic! Ah, guarda quello! Ancora accesi! Finita 1-1! Si vanno tempo comunque promettente della Juventus! Ora Reymar! Gestisce gli ultimi palloni probabilmente di questa serata! Rischiando il possesso! Fanculo, va! Dovevano pareggiare la volta a partire! Beh, però! Bravi ragazzi! Ci mancava un po' Vadi, Maria, Chiesa! E l'ha vinta perchè sono due fenomeni! Perchè c'hanno tre fenomeni da parte! Però, Allegri! Invece di fare i cambi, togli attaccanti i centrocampisti! Ah, te ne ha fanculo poi dalla Juventus! Sei una merda! Ragazzi vi saluto! Mi va iscrivetevi al canale! Saluta i ragazzi! Ragazzi, ragazzi! Un bacione! Guarda che la Juve con 555! Sì!